Siamo nel comune di Mesenzana e incontriamo il sindaco Anna Vonini, alla quale chiediamo quali sono i pregi e i difetti del paese. Amici di 141, buonasera. Mesenzanesi e carissimi, dedico a voi questo intervento. Sapete tutti che Mesenzana è un posto incantevole e vorrei molto volentieri accompagnare tutti i spettatori in questa camminata ideale come luogo di ristoro anche. I punti importanti del nostro paese sono indubbiamente la torre, torre medievale che è stata molto messa in evidenza e recuperata con molto sforzo ed è anche attualmente utilizzata per celebrare matrimoni civili, quindi molto interessante anche la sua visita. Vi accompagneremo nei punti più incantevoli se volete seguirci.